Buonasera a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene e ben ritrovati in questo ennesimo contenuto, perché nemmeno io mi aspettavo di rivederci questa sera. Non è successo niente, però credo che fosse necessario fare un'ultima chiacchierata un pochettino più a bocce ferme rispetto a quella che è stata a tutti gli effetti una live reaction al comunicato dell'esonero di Allegri di qualche ora fa, ormai è caricato qui sul canale. È stato importante anche magari scrivere determinati concetti su Twitter, confrontarmi, leggere le vostre opinioni sotto il video. Io credo che tutto faccia brodo, leggere tutte le opinioni è sempre molto molto importante e perdonatemi se forse, non lo so, magari sarà anche un video troppo lungo o troppo corto, non ho idea, sono un po' stanco. Sono state 48 ore veramente infernali, sono state 48 ore dove si è anche dormito poco, se proprio voglio dire la verità non so se si vedono un po' di occhiaie, non è solo il tempo che passa come i dieci anni di YouTube, ma è anche perché davvero nelle ultime ore ho prestato troppa attenzione a dispositivi elettronici, non sono mai riuscito a staccare completamente, c'era la volontà di portarvi quelli che erano gli aggiornamenti più veloci possibili, spero di aver fatto un buon lavoro, spero che possiate aver gradito tutti questi video di questi giorni, mi è passato tanto tempo insieme, mi è piaciuto un commento in particolare di uno di voi che diceva che in questi giorni ha visto più me che sua moglie, ecco mi ha fatto sorridere, spero di aver fatto un buon lavoro, spero di avervi portato dei punti di vista e delle opinioni precise, puntuali, imparziali e che cercavano di comprendere al 100% quella che era la situazione attuale della Juventus. Mi auguro che sia passato questa volontà dai video e adesso credo che sia giusto prendersi un po' di meritato riposo, se succederà altro questa sera non credo, ma se succederà altro lo commenteremo nella giornata di domani. Mi sono messo la maglia della Juve, sono messo la maglia della Juve perché il messaggio più grande che voglio passare a questa sera l'ho passato un po' su tutti i social, l'ho pubblicato, lo stemma, il logo della Juventus, ho scritto Forza Juventus e questo qua, perché a me hanno sempre insegnato da sempre che i tesserati della Juve, i giocatori, i dirigenti, i allenatori vanno e vengono ma rimane sempre solo una cosa, la Juventus. Questa è la cosa più importante. Oggi è un giorno in cui cambia per forza di cose la Juventus. Se ne va un allenatore che è stato otto anni alla Juve, uno dei più presenti, il secondo più presente nella storia della Juventus, uno dei più vincenti, in cui in questo secondo ciclo ci sono tante valutazioni del caso da fare, ognuno ha diritto ad avere la sua opinione, avrà per sempre la sua opinione, non ha nemmeno senso star qui a far la punta ai chiodi, bisogna semplicemente ricordarsi che non finisce la Juve, non finisce la Juve e questo è il messaggio che voglio passare. Mi è dispiaciuto tanto leggere tantissime offese, veramente tantissime offese sotto i commenti del post della Juventus e dell'esonero di Allegri dove ho scritto Forza Juventus con un cuore. Non avrei mai pensato di prendere tanti insulti da parte di tifosi juventini per un Forza Juventus, ma questo è il messaggio che voglio passarvi, perché la Juventus rimane e rimarrà sempre al netto di qualsiasi tesserato che sono destinati ad arrivare, fare il loro ciclo, la loro carriera, poi salutare e andare in altri lidi, è normale che sia così. Voglio toccare un argomento delicato, importante, legato proprio alla Juventus, la società della Juventus. Chi è la società della Juventus? Perché queste ultime ore sto leggendo tanti attacchi alla società, poi ci arriveremo, ma tanti attacchi alla società della serie chi sono, dove sono, quando mai si sono fatti vedere, non ci sono mai stati, eccetera, eccetera. Queste sono alcune delle tematiche e delle critiche che fanno i tifosi delusi dall'esonero di Allegri. E allora io voglio fare un ragionamento. Ferrero, sappiamo tutti perché lì, possiamo metterlo da parte. Scanavino, il suo Scanavino non ho tanta fiducia, devo dirvi la verità, non è una persona che mi dà tanta fiducia. John Elkan. Elkan fa parte della Juventus, anzi Elkan possiede, se vogliamo, la Juventus, fa parte della famiglia Elkan Agnelli, è stato festeggiato il centenario, quindi Elkan, o comunque i rappresentanti degli Elkan Exor, eccetera, eccetera, sono sempre stati dentro la Juve, quindi non è una novità, questa fa parte della società. Non è un Agnelli, sì certo, non è un Agnelli, ma io credo che il lavoro di Elkan negli ultimi anni sia stato spesso volentieri sottovalutato, perché aumenti di capitale per fino a un miliardo di euro all'interno di una società calcistica, secondo me è sinonimo anche di amore. Per tanti Elkan non ama la Juve, ma io non so quante proprietà al mondo sarebbero state in grado di versare un miliardo di euro all'interno della società con aumenti di capitale. Non lo so sinceramente, quindi uno come Elkan me lo terrei abbastanza stretto, poi non lo so, così come i componenti della famiglia Agnelli che negli anni hanno sempre dimostrato di amare la Juventus, perché anche Andrea Agnelli ha concluso nel peggiore dei modi la sua avventura alla Juve, ma ci sono stati degli anni splendidi e meravigliosi con Andrea Agnelli, questo non va, secondo me è mai dimenticato. Poi la famiglia Elkan Agnelli vorrà vendere? Boh, non lo so, questo non ne ho la più pallida idea, però io sinceramente mi sento abbastanza al sicuro nelle mani di Exor, mi sento che la Juventus abbia una grande fortuna ad avere Exor alle spalle e lo vediamo anche con tante altre squadre come Milan e Inter che negli ultimi anni hanno avuto delle cessioni anche un po' disastrose che stanno inseguendo dei problemi finanziari di un certo tipo. E poi c'è un dirigente su tutti che è giunto lì, che è il volto nuovo di questa Juventus e quindi io per forza di cose quando parlo di società devo prendere in considerazione tutti questi signori, ma se parlo di dirigente lato sportivo, perché questo è il mio interesse, parlare di sport, di calcio del lato sportivo della Juventus, allora io devo prendere come riferimento Giuntoli e mi sembra falso scrivere che Giuntoli non c'è mai stato in questo anno, Giuntoli c'è sempre stato, sempre. Ha sbagliato? Ho già spiegato le mie motivazioni legate a quelli che si sono messo gli errori di Giuntoli e quelli che secondo me sono gli errori di Giuntoli. Ma dire che Giuntoli è stato assente tutto l'anno è sbagliato, non è vero, è una falsità. E Giuntoli è un uomo che è stato inserito all'interno della Juventus quest'estate, prima non c'era. Per quello vi dico che io ho fiducia nella Juventus del futuro, perché decide Giuntoli dal punto di vista sportivo e andrà a prendersi oneri e onori. Per forza di cosa, deve essere così. Poi c'è il discorso legato al comunicato, perché ci sono due cose che a palle, a bocce ferme, non mi sono piaciute. L'assenza di un grazie, ma per la Coppa Italia. Sono passate 48 ore, si è vinta una Coppa Italia. Il grazie per la Coppa Italia mi sembrava quantomeno doveroso. Io capisco la linea dura del comunicato, ma un trofeo è sempre un trofeo. E quella Coppa andrà inserita all'interno del museo della Juventus e rimarrà per sempre lì. E non mi è piaciuto il durante, perché si è parlato di comportamenti non idonei dopo, e li concordo al 100%, e condanno i comportamenti e la sclerata di Massimiliano Allegri. Quel durante non mi è piaciuto, perché secondo me era giusto lamentarsi di una direzione arbitrale completamente inadeguata. Ne abbiamo imparato anche a caldo nel post partita. Lo stesso Giuntoli, qualche settimana fa, parlava anche di arbitri legato al rendimento, qualche decisione arbitrale. Invece, per me è molto più efficace contestarla sul momento, come ha fatto Allegri, in una partita in cui la Juventus stava addirittura vincendo. Quindi non è un piangere perché l'arbitro no. La Juventus stava vincendo, stava meritando anche la vittoria, ha meritato la vittoria, ha meritato la Coppa Italia, e ci stava a protestare perché veramente il metro di giudizio dell'arbitro non era stato di livello. Quindi io sono molto più dell'idea che è giusto protestare nel momento in cui subisci il torto, che dopo. O stare zitti e poi tirarla fuori, che sembra poi quasi una scusante. A me quello non è piaciuto da parte di Giuntoli, invece è piaciuto da parte di Allegri come reazione, così come non mi è piaciuto quel durante. Poi è ovvio che dove ero occhi, dove ero occhi, è diventato un meme, certo, per forza di cose, a livello istituzionale non può far piacere una roba del genere, lato Juventus ci mancherebbe altro. Però quel durante non mi è piaciuto. Devo essere onesto con voi. Però ragazzi, l'esonero di questo tipo, che è un esonero non sportivo, è un esonero politico, ne abbiamo parlato anche all'interno della live reaction al comunicato. A me non è piaciuto, e lo sapete, ve l'ho già detto subito, arrivati a questo punto per me, a due giornate dal termine, non ha senso esonerare un allenatore, ha senso fargli finire l'anno e poi esonerarlo dopo e per ragioni sportive e dal punto di vista sportivo, siccome Allegri aveva mille mila ragioni e motivazioni per essere sostituito. Se si arriva a questo punto qui, è perché si è obbligati a farlo, non perché si vuole farlo, anche perché è un danno anche per la Juve, un danno per la Juve, per Allegri, un danno un po' per tutti. Qui abbiamo perso un po' tutti da questo punto di vista. Non dimentichiamocelo che non sono contenti dentro la Juventus di questa roba qui. Si è perso un po' tutti. Ma la società è stata obbligata. Non solo perché Allegri aveva minacciato, insultato, dite come volete, spintonato un giornalista, distrutto delle luci sul set, interagito in malo modo con degli altri rappresentanti della Lega Calcio, eccetera, eccetera, eccetera. Non solo per quello. Ma anche per quello che è stato il comportamento nei confronti di Giuntoli. Che attenzione, ci mancherebbe altro. Io immagino che Allegri e Giuntoli non si vogliano bene. Questo è un dato di fatto. E capisco anche che uno possa avere i maroni girati. Però poi io credo che sia normale che se quello che a tutti gli effetti è un sottoposto di una figura, poi strippa, allora poi che cosa puoi farci? Cioè, se Allegri non fosse stato esonerato da Juventus con queste motivazioni qui, e ripeto, per me andava tenuto in panchina altri dieci giorni e poi esonerato per ragioni sportive. Ma nel momento in cui si verifica questa roba qui, come fa la dirigenza a non intervenire? Perché se fino adesso abbiamo parlato di dirigenti assenti, allora io ve la rigiro e se Giuntoli avesse fatto finta di niente, per me se Giuntoli avesse fatto finta di niente avrebbe perso la mia fiducia. Semplicemente. Io non avrei avuto più fiducia in Giuntoli. Perché penso, cavolo, sotto di te c'è una persona che può permettersi di farti questa roba qui, allora tu non conti niente. Non hai assolutamente potere né peso specifico all'interno della Juventus. Una Juventus che ti è stata messa in mano alla John Elkan. Chi sei te? Si permettono di farti questa roba e ti va bene? Stai zitto, muto? Non avrei avuto più fiducia in Giuntoli. Era necessario chiudere così l'avventura di Allegra a Juventus. Perché Allegri era andato troppo oltre. E ripeto, i dirigenti non potevano rischiare di perderci la faccia. Mi è piaciuto? No. È stato necessario? Sì. Probabilmente questa è la lettura più corretta, almeno quella che considero la lettura più corretta di tutta la faccenda. Voglio provocare anche un pochettino. Lo so che è una provocazione. Però ragazzi, c'è stato un allenatore negli ultimi anni che è passato la storia come il più antipatico per la Juve. Non ne ho mai fatto mistero. A me non è mai stato simpaticissimo Maurizio Sarri. Poi ha vinto con la Juve, quindi io rispetto lo scudetto della Juventus, rispetto l'anno di Sarri. Anche tra le mie difficoltà legate al Covid. Non l'avrei esonerato, gli avrei dato un secondo anno. Esattamente le parole che ho detto per l'Allegribis, perché il primo anno di Allegribis, io vi dico, è stata una delusione. Per me è un fallimento, ma un altro anno glielo darei per vedere. Penso di essere stato abbastanza coerente con questo discorso, quando poi al secondo anno Allegri, già prima della penalizzazione, aveva dimostrato di non capirci nulla e quindi modificato il mio pensiero nell'esonero. Sarri non mi stava simpatico, eppure gli avrei dato un'altra chance, perché era oggettivamente complicato valutare il lavoro in un'annata come quella lì, una singola annata come quella lì. Ma se Sarri fosse impazzito contro un direttore di un giornale, facendoli esattamente le stesse cose che ha fatto Allegri, o avesse snobbato Giuntoli o il dirigente della Juventus, il direttore sportivo della Juventus, durante i festeggiamenti dicendo di andarsene. Provate a immaginare quella che poteva essere la reazione della tifoseria juventina. Voglio un po' provocare, però provate davvero a chiudere gli occhi e immaginare questa scena non perché Sarri debba essere paragonato ad Allegri, la stessa storia eccetera eccetera, semplicemente perché alla fine Allegri per essere il secondo con più presenze, il secondo con più trofei eccetera eccetera, è e rimane un dipendente della Juventus e quindi l'allenatore della Juventus. Provate a immaginarvi qualsiasi senatore della Juventus che fa quella roba lì, io non credo che ci sarebbe stata così tanta protezione da parte dei tifosi. Qualcuno potrà dirmi, è ma Allegri in questi tre anni? Per me non sono tre anni, ma provo a venire incontro a questa che è una motivazione che ho letto tante volte. Se un dipendente per 10, 15, 20, 30 anni va a lavorare nello stesso posto, sotto lo stesso capo, quindi datore di lavoro e a tutte le motivazioni del mondo per strippare, per essere arrabbiato, per essere infastidito nei confronti del capo che magari si è pure comportato male, ma se davanti a tutto il resto, davanti a tutti i colleghi, poi strippa e prende a male parole un collega o comunque un fornitore e dice al capo di allontanarsi di andarsene, anche se questo a tutti questi 10, 15, 20, 30 anni di rabbia represa è giustificata nel momento in cui fa quella roba lì, è condannato, è condannato, perché la Juventus va vista come una società, come un'azienda, come un luogo di lavoro, io avrei perso tutta la fiducia in Giuntoli, tutta. E ribadisco, non apprezzo questo finale, perché non apprezzo a questo finale, mi fa schifo perché è tutto quanto più di lontano possibile da quello che amo io e cioè il calcio, questo con il calcio c'è niente a che fare, tutta roba che sono tutti discorsi interpersonali, zero col calcio, ma avrei veramente perso la fiducia in quello che è l'uomo che dovrà costruire la Juventus, nella quale ho fiducia perché credo che Giuntoli dal punto di vista sportivo sia un direttore che ne mastica tanto e che può fare delle cose fatte bene. Allegri era un grosso parafulmine, io ve l'ho detto per tanto tempo, ultimo non ultimo, dopo Juventus Genoa 0-0, io dicevo togliete sto parafulmine, esoneratelo adesso, non fate di finire la stagione se avete paura di non arrivare in Champions, se avete paura, davvero concreta paura, toglietelo adesso, c'è la pausa, si affida la panchina a Montero per le ultime partite e si responsabilizzano i calciatori, perché togliendo il parafulmine Allegri si responsabilizzano i calciatori, tutto il focus, tutta l'attenzione andava su di loro. Ecco, io credo che ora ci siano delle nuove gerarchie da restabilire, Allegri è stato estirpato dalla Juventus, abbiamo tagliato la testa del lidera, come dicevo prima ora la Juventus è di Giuntoli, io voglio avere fiducia in Giuntoli, io ho fiducia in Giuntoli e supporterò Giuntoli e le scelte di Giuntoli, anche se magari le riterrò in popolari, come magari alcune cessioni che ho già letto che non mi convincono, ma voglio dare fiducia a Giuntoli e voglio vedere come sarà in grado di costruire la Juventus. Bene, ora è responsabilità di Giuntoli e dei calciatori e vi faccio una richiesta, non colpevolizzate il prossimo allenatore, non Montero e anzi anche Montero, perché se dovesse perdere Montero io già mi immagino, allora vedi che non era colpa di Allegri, tre anni contro una partita sarebbe, però va bene, voglio avere fiducia e spero che ci possa essere amore e comprensione nei confronti di un ex giocatore della Juventus, di uno Juventino vero che ha spesso e volentieri parlato da Juventino come Paolo Montero, che viene catapultato in questo mondo e dà disponibilità per 180 minuti e sicuramente non lo farà col sorriso sulle labbra, per quanto possa essere stimolante l'ipotesi di allenare la Juventus, ma non sarà mai la Juve di Montero, quindi voglio che non si diano già le colpe a Montero e già le colpe al prossimo allenatore, perché ovviamente ora inizia l'era Giuntoli, ora inizia l'era Giuntoli, finalmente siamo ritornati ad avere una programmazione sportiva, questa è la notizia, se si parla di società bisogna parlare di società dal punto di vista sportivo e bisogna identificare in Giuntoli l'uomo che costruirà la prossima Juventus, Montero è a Frosinoni in questo momento perché domani la primavera giocherà, Montero è squalificato, sconterà la squalifica lì e sarà in panchina a Bologna con la Juventus, domani l'allenamento della Juventus lo terranno Paduin e Magnanelli che sono rimasti alla Juventus, non sono stati esonerati insieme al resto dello staff di Massimiliano Allegri e devo dire la verità anche questa non mi pare proprio una cosa bellissima perché Paduin e Magnanelli facevano parte dello staff di Allegri e per come ragiono io era giusto allontanarli tutti perché sennò se poi magari Allegri, Landucci, tutti erano d'accordo far rimanere lì Paduin e Magnanelli sto dicendo una bagianata io e può essere, ne ho già dette tante, uno in più non sarebbe nulla di male, però se invece non è così, Salanducci, Allegri girano un po' le palle che due componenti dello staff siano rimasti lì, ci sta tutto dopo, dopo ci sta tutto poi è ovvio che l'Avventus deve tornare a una soluzione per fare in modo che comunque Montero potesse tornare in tempo, l'Avventus deve allenarsi, preparare la partita, bla 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 fatto sta che queste sono le notizie, queste sono le informazioni, queste sono le mie analisi un po' più a caldo, è un po' più a freddo dopo invece le analisi a caldo del comunicato ora sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, una richiesta solo vi faccio Forza Juventus, fino alla fine questo è quello che conta, non i tesserati, non ci sarà mai un tesserato più grande della Juventus e non dovrà mai esserci un tesserato più grande della Juventus questo è il messaggio che vi passo, ciao a tutti ragazzi, anzi ciao a tutti i fratelli bianconeri che è ora di ricominciare a compattarci piuttosto che dividerci ci siamo già divisi abbastanza, è ora di ricominciare ad andare tutti insieme uniti verso la bandiera della Juve Forza Juve Forza Juve